Presidente D'Alfonso, come risolvere la vicenda con Ryanair per potenziare l'aeroporto di Pescara? Intanto, entrando nel merito, proprio come mi ricorda il Presidente Monticelli, fare in modo che i numeri vengano studiati, quelli attuali, quelli potenziali in positivo e anche quelli potenziali in negativo laddove noi perdessimo la connettività nella qualità che abbiamo adesso. Ci sono tre punti fermi importanti. Uno, l'Abruzzo ha bisogno dei voli low cost per accedere allo spazio aereo comune. Due, il quadro normativo nazionale ed europeo si è messo in cammino rispetto a qualche settimana fa. Terzo, io determinerò un colloquio frontale tra il Ministro del Rio, che già mi ha detto di sì, e la proprietà di Ryanair. Quarto dato importante, i numeri di cui mi richiamava prima l'attenzione Luciano Monticelli, e noi ogni giorno abbiamo 3.000 voli che sono destinati alla connessione aerea dei diversi operatori economici, cittadini, studenti. Nell'arco di un anno noi abbiamo 14.400.000 voli. Se muoiono gli aeroporti minori, quelli che non superano i 700.000 passeggeri, noi rischieremmo di perdere 2 milioni di voli l'anno, con una ricaduta negativa sul PIL dei territori, dello spazio e dell'Unione, addirittura per centinaia di miliardi di euro. Ecco perché dobbiamo difendere l'attuale connettività aerea, facendo in modo che gli operatori si parlino, decisori politici e operatori economici privati, ma che si adegui anche l'armatura normativa, le norme dell'Europa e le norme dell'Italia. Noi su questo fronte saremo puntuali a partire da questa riunione e da quella che faremo il 15 di marzo alla presenza dell'emissario di Mr. Ryan.